Il grande giorno è arrivato Il gioco sarà sbloccato a 1 di un'ora, mannaggia la miseria Niente, ci vediamo dopo lavoro Eccoci qua ragazzi, siamo passati sullo schermo Qua, o la... Prima partita, purtroppo non ho molto tempo Quindi farò una cosa molto veloce Yeah 3 cim di lavaredo Allora, volume lievemente alto Adesso non so come mi sentiate voi Opzioni Pa, 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 pa Proviamo così Mostra FPS Vediamo anche un po' come regge il gioco Pagine iniziale Come funziona qua, gioca Yeah Anche scattino Qua e la Molto bene Io spero mi sentite bene Perché non avrò modo di editare molto il video Eh, guarda qua Schwarzlos Spettacolo Spettacolo T'altro chiedo scusa se non mi vedete Ma appena finito di lavorare Sono in condizioni poco presentabili Yeah Yeah Revelli Ok Oh, ci sono anche un sacco di giocatori Porca miseria Buono, buono Forse sono i posti liberi Vale la domanda Così Un passo scontato Dolomiti Pugano No, facciamo sì Facevo a Montefior Oh, è piena veramente Maronna santa Cosa c'è di libero L'orizzo Mostra pieno C'è Unisciti Alla partita Ok Vabbè Va benissimo Dolomiti Iniziamo con gli austro-ungarici Massimo Iniziamo con gli austro-ungarici Allora Fuciliere Ingegnere Alpino Chi è di sbagliare Massimo Non si volessi Eh, ecco qua Attaccate 21 giocatori Facciamo giusto Facciamo bene Muschetto 91 Cavalleria Binocchio Finocchio Iniziamo Il nostro zaino Ok Senza 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 Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Che spettacolo No 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 Mamma mia ragazzi Che spettacolo Che spettacolo Grandissimo Con la mimetica Invernale Molto utile No Che che l'ha Che che l'ha Fatto giù Allora Devo sistemare un po' La grafica Eh Bello 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 Allora I movimenti I movimenti Sono migliorati I movimenti Sono migliorati Ma io volevo Sistemare anche un po' Plotone Ande Spettacolo Allora Ah facciamo così Oggi proprio Un po' così A cazzeggio Poi appena avrò tempo Cioè Settimana prossima Ridendo E sterminando Faremo qualche video Un po' più approfondito Anche così avrò modo Di capire un attimo Un po' come è il gioco Ah c'è la miseria Allora Abbiamo binocolo E posso fare qualcosa Col binocolo Mi sa di no Sinistra avanti Corpo a corpo F2 F2 Ragazzi Andiamo Sì Molto bene Le grafiche Nonostante non ce l'abbia A livelli altissimi Non è per niente male Mi aspettavo Veramente Molto Di peggio Molto Di peggio Un po' di Di fumo E vabbè Però il modello S Tipo Un giro Un saltatore Ufficiale No Alpino Eccolo Quale Il mio obiettivo È il veterly Il mio obiettivo È prendere il veterly Che è già quello Però con il Con i colpi Il carco Ah che è catturato Quindi abbiamo già il veterly Convertito A calibro Carcano Non fa niente No Ah elevatevi Avanti Savoia Porca puttanga Eh niente Ragazzi Devo ancora un attimo rodare I comandi E le mappe Perché Ok abbiamo conquistato Questo punto qua Non è vero L'abbiamo perso Però posso nascere Sul mio Ok Doppio click Sul giocatore E possiamo nascere Su di lui Facciamo che se magari Il capitano Mettesse delle indicazioni Sulla mappa Dato che si può Andiamo a passare dall'altro lato Un cadavere? Eh niente Sono in posizione nettamente Siamo in posizione nettamente più svantaggiosa Noi Io vorrei sapere Il campo di battaglio Proviamo A far così allora Porca miseria Ah ecco qua perfetto Quindi possiamo spottare per bene Molto bene molto bene Molto bene Ah uno smoke In giro Vabbè mettiamoci qua dietro Sembrerebbe pulito Oh la madonna Vabbè ragazzi comunque Prime impressioni molto molto buone Molto molto buone Ok Qua hanno posizionato un punto di nascita Punto di spawn Se diciamo che Allora c'è una posazione di metrateci Sicuramente Perché non me li prende? Allora c'è il nostro Bene bene signore Bene bene Mi sembra strano che almeno una sipe Potevano darcela eh Qua Dove sei? Dove sei? Maledetto Ma c'è la possibilità di avere Vabbè pistola lanciarazzi Borraccio con gli sminetti Top Ah qua vediamo un po' DLC DLC Pallisci in battaglia così anche no Questa bellina E poi vedremo dopo Poi vedremo meglio queste cose qua più avanti Mi fa nascere qua Conquista Conquista Maledetto Oh Dai ragazzi Dai Dai Ah E niente E niente Ci abbiamo provato Ci abbiamo provato Io spero che mi siete sentiti Sto sentendo Che non ho tempo di editare il video Già non so se avrò tempo di pubblicarlo Però Ci proverò Uh Uh bello Bello che si sta vicini Eh non l'avevo visto Non l'avevo visto Bello 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 Però molto bello Molto bello Un'evoluzione rispetto A Verdun A Tannenberg Non lo conto Perché purtroppo Non mi è piaciuto Ma una vera evoluzione Voglio controllare Su OBS Come si è ammessi Scegliamo la mappa Cengio Ci sta Però è pieno Lo studio è pieno Brava Madosca Tutti Così tanta gente Già dal primo giorno No male Allora Carso Carso Cengio Fior Direi A sto punto Carso Unisci la partita Non è solo Va bene così Cengio Ti stai andando la partita Oh bello 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 Strafe Expedizione Sì Ok Motion blur Da levar via Oh Austriaci Sì Difensore Sì Passiamo Regno età D'Italia Per favore Alpino Facciamo l'alpino Arma Moschetto Da cavallere 91 Vetterli Entriamo già nel Nel vivo della battaglia Offensiva Oh Poi abbiamo subito Un 149A Difendiamo Difendiamo Medico Ashterreich Un binocchiolo Abbiamo il binocolo Abbiamo vinto Vabbè Vittoria facile Sono riuscito Neanche a giocare Che abbiamo vinto Molto bene Abbiamo sbloccato Anche l'achievement Dai dai Per favore Subbando le pancia Le ciance Che io voglio Fare una partitina Ok Buttiva Arma più letale Carcano Un po' di esaltati Miglior protone della partita Grazie Grazie Non c'è di che Ma non Non sono nemmeno entrato Ok Qua è abbastanza Come Verdano Tannenberg Dai che Voglio finire Questo video Di prima impressione Ovviamente Mi dissocio Da quello che Viene scritto Nei commenti Però c'è un sacco Ma c'è un sacco di gente Cavolo C'è stato Un hype Della miseria Montefior Bene Bene Ragazzi Dai 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 Oh Comunque Limazioni Per quei due minuti Che ho giocato Non sembrano Per niente male Allora Noi dobbiamo difendere Noi dobbiamo difendere In prima linea Grazie Però con cosa mi ha fatto nascere Perché adesso non ho il mio binocolo Mannaggia Io volevo fare l'alpino Dai Dai non il fuciliere Ma porca paletta Ah perché lo sta facendo già lui Vabbè Qua stanno montando I sacchi di sabbia Io cosa posso fare Con tre Ma per aprire il menu Costruzione Vediamo Uccidete quei maledetti Bastardi Tieni premuto Per il menu Costruzione Dove? Qua? Non è un premuto Ah qua 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 Allora ragazzi Spermo lo studirà meglio Beh le animazioni Dai è un'altra cosa Eh È tutta un'altra cosa Rispetto a Verdan E E E Tan E Verdo Una paletta Eh mica scherzano qua Eh Aereo in arrivo Ragazzi Eh L'ho visto Come l'ho visto Ma fatto Ma io volevo farlo alpino Eh Eccoci qua Viva gli alpini semi Allora Ripremo col binocolo Va per capire un attimo Allora Questo proprio serve Per spottare No Eh Ne han premuto Vedo che l'occhio Che carica Ah Eccoli 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 Che sta spottando Che sta sparando Su queste coordinate E mi è arrivata La filiera addosso Quella pronta Ecco Che ha individuato Più cinque punti Aspetta Non si stanno attaccando Da questo lato Vabbè Comunque Animazioni Maledetto Io però ho nomato I cinque punti In sto giro Ragazzi Nemici Innevitati Ok Vieni Siamo in supporto Dell'artiglieria Ok 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 Non devo esser curato L'artiglieria Sta sparando Su queste coordinate C'è un ricognitore Sopra di noi No Vabbè No Maledetto Volevo provarla io Aereo in arrivo Dovete bombardare Con la protezione Amico mio Io ti sto spottando In fondo Io ti sto spottando In fondo Mi trasforma Dell'animazione Il caricamento Devo essere travelli Mi piace Sono in B Sei liberamente Feito Se non accompaglio Squadra Doporto completamente Ok via 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 ah no no ok schwarz lo uso eh ci sta ci sta comunque ragazzi per il momento tanta roba stiamo insieme al plotore certe grida sono le stesse di verdun ok ma non ho visto se mi ha fatto giù no ok ok allora sto facendo pochi fps è abbastanza pesantuccio dovete bombardare quella posizione poi adesso passare un po' di tempo per ottimizzare un attimo meglio la grafica togliere robe inutili maledetti da dove da dove no comunque ragazzi prima impressioni veramente tanta tanta roba eh dovete bombardare quella posizione non è vero mi sono tutti da questo lato è caduto ma che cazzo non la fanno a vedermi non è vero sono qua, sono tutti qua qua ce l'abbiamo una bomba a mano almeno vediamo non abbiamo proprio niente all'inizio aah villa arpe rosa eccola qua una scheda per troppe speciali proviamo assaltatore ah classe è il massimo allora facciamo rimaniamo fedeli agli alpini l'artiglieria sta sparando su queste coordinate ah ma ce l'ho sempre in ce l'ho sempre in ah come si fanno ad urlare ok creiamo il punto di respawn dai ragazzi ok quindi si crea in più volte stiamo vincendo questa battaglia partiglieria in arrivo preparatevi ragazzi e poi perché fa così guarda ti hanno sempre premuto costruzione difesa del settore perfetto porca miseria da dove non si sa l'aeron mio l'importante è l'importante è aver costruito attendo per il respawn eh mannaggia però non corre però dai le animazioni non sono niente male dovrei un attimo sistemare la grafica no il ragazzolino atteggiarie aero in arrivo aero in arrivo non perdiamo terreno compagni bene aero un po' scontata come cosa ma il nostro compare qua vediamo in termine delle case carine dai non è come post cryptium dove le case sono buone eh vai dammi il tempo vediamo che velocità di caricamento con un gerdan e tannenberg è abbastanza lenta però vabbè può stare l'artiglieria sta sparando su queste coordinate ragazzi ambientazione bene bene ma dai siamo sparati insieme cosa fa perché c'è qualcosa da studiare per bene perché secondo me è tanta tanta roba però non capisco perché almeno un paio di sipe perché potevano equipaggiarle gli alpini serpente bove infine proprio non l'ho visto devo farmi gli occhi giustamente ma come l'ho preso eh vabbè allora giusto no sono tutti tutti i giocatori reali ragazzi ma un sacco di gente e questo gioco qua in italia a parte da me penso che non sia stato pubblicizzato molto appieno 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 si può sporgere di lato ma porca miseria ma franz dallos hai veramente un giocatore ah no ok un bot era l'ultimo che adesso è sparito ok dai pulmineo salora dovevo provare a fare corpo a corpo ma non l'aveva visto niente ragazzi devo allenarmi devo allenarmi non ce n'è non ce n'è però il gioco sicuramente promette bene danni 5 ma dai sto guardando sotto e trovo sopra bello 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 mi sto piacendo però ora poi non sono un top player mi gioco per per divertirmi via 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 che sento lì il maledetto eh niente rax gas va bene ragazzi per questo primo contatto con i sonzo direi che sono soddisfatto per il momento ci vediamo alla prossima io purtroppo devo scappare e non so neanche quando riuscirò a pubblicarlo questo video spero entro il weekend e niente grazie per esservi collegati ci vediamo alla prossima grazie per la visione